Allora salve a tutti, oggi recensirò il primo degli aromi The Legends di Vaping Gentleman Club che è il drama basma, drama basma The Vaping Gentleman Club della serie The Legend come vedete la gocciolina è vero, è la prima delle cinque e questo infatti è il primo dei cinque aromi non so in base a cosa siano classificati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto credo in base all'atrocità, vedremo questi aromi li ho già provati in fiera li ho provati in fiera a Verona per la loro presentazione ed è stato difficile stare appresso a questi aromi perché perché sono buoni, vero quindi appena c'era l'occasione prendevo l'apicostrizzo con l'atomizzatore in fiera c'erano i prototipi del Novecento uno dei quali ce l'ho ancora come questo è perché questi tabacchi sono buoni sono buoni, vero questi tabacchi li ho lasciati maturare tre mesi di solito non me ne frega niente di far maturare i tabacchi anche se sono macerati cioè svapo praticamente quasi solamente macerati che avrebbero bisogno di maturazione ma di solito me ne strafotto altamente faccio agita e svapa questi li ho lasciati maturare perché la testa mi ha fatto dire così non c'è una ragione particolare ma andiamo al drama basma me lo sto spapando va bene sul Novecento sul mio Novecento e lo sto svapando anche con una coil piuttosto spinta 0,82 a 18 watt io rimango innamorato diciamo così dello strike 18 che mi piace da morire è il mio preferito ma è il tiro del Novecento una cosa spettacolare questo drama basma ha la caratteristica di un po' tutti i basma non so se conoscete questo tipo di tabacco almeno allo svapo il basma è un tabacco fetuso proprio è un tabacco erboso va bene che può risultare quasi fastidioso quasi fastidioso per certuni di sicuro deve piacere questo tipo di tabacco non è non è un tabacco che può piacere a tutti infatti a me non piace il basma come concezione proprio non non è uno dei miei tabacchi preferiti questo qua è fatto con i controcazzi c'è da dire non posso dire che non è buono non è fatto bene dei 5 Legends non è proprio il mio preferito però si sente che è un tabacco raro no? è proprio e questo dovreste comprarlo voi che siete animali rari dello svapo che non siete altro va bene? questo si è proprio quel bel saporaccio dolciastro di 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 sa di pescheria però non quell'odore fetido di pescheria quell'odore di pescheria che però ti piace capisci e staresti lì ore a sentire quel bel sciauro di pesce va bene fresco non è proprio uno lezzo raffinato ma voglio dire ci sono certi odori sapori aromi forti che che colpiscono e piacciono a tante persone all'altra tante persone non piacciono questo drama basma ripeto non è uno dei miei preferiti fra i cinque però però buttare la miseria a qualità si sente si sente era era dalla fiera che non lo svapavo quindi l'ho solo preparato ci ho solo preparato l'atomizzatore messo il liquido nella boccetta bla 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 tutte queste cose quindi sto cercando di ricordarmelo io stesso e sto cercando di ricordarmi che cosa mi cosa 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 mi porta alla mente questo tabacco perché poi a parte le considerazioni personali quindi questo tabacco mi piace quello non mi piace quello secondo me è fatto bene quello secondo me è fatto male bla bla ciò che ti rimane di un tabacco specie tabacchi come questi che sono molto particolari sono le sensazioni almeno per quanto mi riguarda le sensazioni questo mi dà la sensazione proprio di 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 e non saprei descriverlo meglio di come l'ho descritto e quindi basta mi fermo qua è inutile che dica altre cose il drama basma fra l'altro drama basma di The Legend ho potuto constatare così sondaggiare che è uno tra i più gettonati a me non mi fa impazzire però è fatto devo dire è fatto così bene è fatto in maniera tale che riesco a svaparlo c'è tipo un tank me lo faccio di drama basma me lo farò un tank di drama basma senza soffrire capisci non so se mi capisci mi capisci ti è mai capitato con qualche tabacco che tu dici vabbè non è il non plus ultra per me però te lo sei svapato scusate passano le motociclette è vero e basta questo quindi è normale io quando faccio la recensione di un prodotto ora vabbè tu dici dovevo avrei dovuto tessere le lodi sperticate per il drama basma visto che è un vaping gentleman club ed il mio liquido pure il mio aroma è un vaping gentleman club no no perché non è necessario non non sarebbe corretto ecco io all'inizio del video alla fine del video come potete constatare non metto mai questo video contiene opinioni personali e quindi fatevi una cultura andatevi a guardare altri video comprate le cose anche se il recensore vi sta dicendo che non gli piacciono non ce le metto queste cose primo perché non faccio montaggio editing video audio perché mi rompo i coglioni non è cosa per me non saprei farlo non mi interessa io faccio tutto in presa diretta quanto dura sta durando il video 9 minuti già che sono assai queste 9 minuti 9 minuti così come sono senza tagli senza niente senza rifarlo non ce l'ho il tempo di rifarlo sta tutto alla vostra intelligenza che ci vuole a capire che se uno recensisce un liquido lo recensisce lui non può mai essere una cosa assoluta allora se io vi dico che il drama basma per me è fatto benissimo ma non è tra i miei preferiti non è tra gli aromi che mi fanno impazzire che cosa vuol dire che è un aroma brutto che è un aroma che non si deve comprare no è un aroma che a me non fa impazzire ma ce ne sono tanti altri che ci impazziscono per questo drama basma e quindi e c'è bisogno di dirvelo a ogni inizio video c'è bisogno alla fine che facciamo come gli americani lo sapete che un tizio americano praticamente per asciugare il gatto l'ha messo nel forno al microonde e finito che l'ha cucinato ebbene il giudice ha dato ragione a sto tizio perché nelle istruzioni non c'era scritto che non si potevano asciugare gli animali nel forno a microonde e da allora la ditta ha dovuto scrivere nelle istruzioni con questo forno a microonde non potete asciugare gli animali ma che dobbiamo arrivare al livello degli americani che delle ovvietà così si devono scrivere se no scusate il piccolo sfogo e drama basma the vaping the legend dell'azienda the vaping gentleman club svapatelo perché non è il mio preferito certo che certo che è un mondo difficile ah Walter che dici non è un mondo difficile ma va a fare un culo magari tu va ma va a fare un'altra Grazie a tutti.